Questo piccolo paesino di montagna della provincia di Torino, della città metropolitana di Torino, dove ha potuto aderire al bando della regione Piemonte il progetto FESR per quello che è il rinnovamento energetico di due edifici di proprietà comunale, con la valorizzazione anche della risorsa, con la realizzazione della risorsa della Mioassa e con la realizzazione di una centrale termica biomassa con la sua linea di teleriscaldamento e distribuzione per gli edifici di proprietà pubblica, già come detto. L'approvvigionamento sulla filiera corta è in fase di definizione, intanto abbiamo cominciato a muovere i primi passi, aggregandoci soprattutto all'ente di sviluppo, come dire, un po' di area vasta, che è l'Unione Montana-Valle Orche-Soana e soprattutto fondando un'associazione temporanea di scopo, come dire, esplorativa. Oggi noi stiamo pensando a come replicare questi impianti derivato da, come dire, la collaborazione tra l'Unione Montana-Valle Orche-Soana e con EnergyVos, no, che è questa associazione temporanea di scopo per i comuni che già fanno parte e soprattutto per evidenziare questo buon progetto anche ai comuni vicini e, perché no, proprio alla sede dell'Unione Montana-Valle Orche-Soana, che ha sede qua nel comune di Pontu, che sarebbe veramente ideale per i paesi di fondo valle e avere anche una sua importante area di stoccaggio della risorsa.